Alessandro Grandoni, benvenuto a Chieti. Allora, il curriculum va da allenatore più corto perché mister è giovane, 42 anni, da terni, tutto giusto, ma soprattutto come giocatore me lo ricordo io, veramente un buon elemento che ha fatto carriera, tante e tantissime presenze in Serie A. Ho avuto la fortuna di fare della mia grande passione il mio lavoro, come tutti i bambini che iniziano a giocare a calcio hanno il grande sogno di diventare calciatore. Io ho avuto questo grande privilegio, sono contento e adesso però quella parentesi bella, piacevole della mia vita ormai alle spalle, ho intrapreso questa nuova parentesi, io mi auguro a livello personale che possa quantomeno avvicinarsi a quello che ho fatto da calciatore. Sapete meglio di me la grande passione che si vive qua per il calcio, ormai conosco anche io quello che è successo un po' negli ultimi anni ma soprattutto negli ultimi due mesi anche perché sono stato strettamente collegato a quelle che sono state le vicissitudini estive. Adesso si volta pagina, c'è grande voglia di fare le cose in modo serio, senza fare promesse, senza fare chissà che cosa, ma dimostrando ogni giorno la nostra professionalità, è quello che giustamente la piazza importante come chiedi si aspetta e ci chiede e noi da questo punto di vista sicuramente non mancheremo. L'ultima domanda molto originale, che cos'è che l'ha convinto a venire qui a Chiedi? Per un allenatore venire a Chiedi, una piazza così di grande visibilità, di grande passione, è difficile rinunciare, però è stato molto importante oltre a questo aspetto l'ingresso della nuova società, l'ingresso di figure che sono assolutamente una certezza dal punto di vista morale. Affidabile, quindi oltre all'importanza della piazza, senza che mi ripeto, ma sicuramente una delle due componenti principali è la nuova proprietà.